Allora, di questo ritiro mi è piaciuto sinceramente tutto. Mi sono sentita proprio accompagnata fin dal primo secondo fino all'ultimo in un viaggio incredibile. Mi sembra di aver attraversato, essere passata dall'inferno, poi purgatorio, fino al paradiso dantesco. Tutta la Divina Commedia in tre giorni. Beh, appunto, no, davvero è stato un viaggio che mi ha permesso di proprio entrare nelle profondità del mio essere. Quindi, insomma, vedere, prendere coscienza di cose, pulire e poi anche sentire l'immenso spazio che c'è dentro. Allora, sì, ho lasciato andare, sì, credo di sì, insomma, tante emozioni un po' pesanti, ho preso coscienza di paura e poi, sì, anche con la Divine Connection. E poi, insomma, tutti questi tre giorni, sì, sicuramente posso dire di aver lasciato andare un po' di pesi, sì, sì, sì. Allora, ho avuto, rispetto a intuizioni e rivelazioni, beh, è stato un viaggio in generale liberatorio, Però posso dire che la giornata di oggi, conclusiva, mi è piaciuta particolarmente la camminata fino alla vetta e lì, effettivamente, in totale chiarezza e apertura, ho ricevuto delle rivelazioni, sì, 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 per il mio percorso. Il fatto che abbiamo fatto questi tre giorni di luce all'aperto, allora, per me innanzitutto è stata un'esperienza nuova perché ho fatto sempre tanti corsi in aula e devo dire che sì, mi è piaciuto tantissimo, ha arricchito davvero tanto il viaggio, il percorso, Oltre, secondo me, a facilitare anche sia rilasci che consapevolezze perché comunque la natura ha un'energia pura di per sé e poi sì, ho notato anche delle energie particolari nei posti dove Patrizia ci ha portato. E poi è stato anche bello, diciamo, lo specchio, la metafora tra il viaggio esteriore e il viaggio interiore perché appunto ci siamo mossi in tanti posti diversi, quindi è stato sia un viaggio esteriore che ha rispecchiato poi quello interiore, molto bello. Ecco, su questa sono senza parole, ma è proprio questo essere senza parole perché mi porto a casa un po' questo senso di infinito, apertura e essere tornata a sognare, che avevo un po' accantonato dei sogni e quindi mi porto a casa tantissimo, ma questo in particolare riprendere a sognare, sì. Un grazie, 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 grazie tantissimo Patrizia, sei stata stupenda, grazie.